Amici di Vanum TV, una calorosa ben trovati da Gabriele Aguastella, quinta puntata con B di Vanum, il contenitore dedicato al campionato di Serie B e per la prima volta, la quinta puntata finalmente ci ritroviamo in questa quinta puntata per parlare anche di calcio giocato perché si sono giocate appunto le partite del campionato di Serie B, ma naturalmente non sarò solo nemmeno questa sera perché oltre agli ospiti che andremo a presentarvi io presento con lei che mi sta accompagnando ormai da oltre un mese in questa avventura e naturalmente la vado a chiamare Laura Maccioni. Buonasera Gabriele, buonasera a tutte le persone che ci stanno seguendo, come hai detto è ripartito il calcio, ripartenza del calcio giocato secondo me è un segno di speranza, di gioia, di un ritorno alla normalità Gabriele. Direi assolutamente sì, è un ritorno quasi alla normalità perché manca una parte dei protagonisti del calcio che sono gli spettatori, quelli che vanno a riempire le gradinate, quelle che in un certo senso trasmettano le emozioni a coloro che poi danno emozioni in campo e sono convinto che i calciatori che sono scesi sia nel recupero tra Ascoli e Cremonese, per la cronaca ha vinto la Cremonese 3-1 poi di altri risultati naturalmente le lascio annunciare a te più avanti quando le andremo ad analizzare Laura, sì appunto nelle partite che si sono giocate nello scorso fine settimana sono convinto, calciatori in campo sicuramente a loro gli sarà mancato una parte delle emozioni che regala il pallone a spicchi, è un effemismo, è un effemismo pallone a spicchi perché ormai mi sembra che da un po' di tempo è stato abbandonato il pallone con gli spicchi, adesso ci sono i palloni con la fantasia, la fantasia che regala il calcio e questa sera del calcio e della fantasia che regala questo spettacolare sport, ne parleremo con due ospiti, il primo lascio annunciare a te Laura. Il primo ospite Gabriele è come sappiamo un ex calciatore e allenatore, diamo il benvenuto a Mario Anzaldi, buonasera Mario. Ciao, buonasera a tutti quanti, grazie dell'invito a tutti. È un piacere rivedervi con noi. È un piacere rivedervi, ciao. E naturalmente con Mario andremo anche ad argomentare questo avvio di Serie B ma non c'è solo Mario Anzaldi perché abbiamo un secondo ospite come ormai di consitudine sin dalla prima puntata dello scorso 26 maggio, abbiamo un preparatore calcistico, un esperto di settore giovanile, un grandissimo appassionato di calcio, un amico anche se vogliamo, Simone Bombardieri. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. E lasciatemi dire, lasciami dire Laura, ciao Simone, che questo è il nostro primo collegamento che varga i confini nazionali, seppur di pochi chilometri perché Simone Bombardieri, come potranno vedere gli amici che ci seguono da casa, alle sue spalle ha uno stemma importante, quello del Chiasso, una società che milita nel campionato di Serie B della Svizzera. Simone Bombardieri è un responsabile del settore giovanile del Chiasso. Esatto, esatto, sì, da qualche anno, da due anni ho lasciato l'Empoli e ho intrapreso questa nuova avventura. E quindi devo rompere il ghiaccio con te Simone nel chiederti come vedi il calcio italiano dalla Svizzera in questo momento? Guardo, allora, sinceramente mi sono calato appieno in questa nuova realtà che è molto impegnativa e anche tanto diversa. È normale che, sai, c'è un gran legame ancora con l'Empoli, con il calcio italiano, perché comunque per 20 anni, per 18 anni ho seguito con passione in primis dal tifoso la nostra prima squadra nei vari campionati. Quindi ecco, la guardo sempre con un occhio interessato e niente, sempre attento ai vari risultati. C'è Laura che ha in caldo per te una domanda che riguarda il settore giovanile. Nel frattempo ci sono dei problemini, abbiamo perso un attimo il collegamento con Maria Spalli. Abbiamo perso Mario, ma proprio per questo ci concentriamo, Gabriele, su Simone in questo momento. Sappiamo, Simone, che hai ripreso a pieno comunque il lavoro, gli allenamenti sono ripartiti. Volevo chiederti una cosa, Simone. Come vedi in questo momento in Italia la ripresa del calcio, appunto, dilettantistico del settore giovanile? Che in questo momento è un punto interrogativo che sta comunque creando problematiche anche nelle varie società. Allora, guarda, io la vivo ora da spettatore e anche un pochino turbato, nel senso che poi alla fine mi attengo alle direttive della nazione qui, della Svizzera. E la situazione è un po' assurda perché davvero, come diceva Gabriele, sono davvero tre minuti di macchina che ci separano da Como e è strano avere delle regole così diverse da una nazione all'altra. Sappiamo che soprattutto la Lombardia è stata colpita in maniera particolare, però ecco, oggettivamente vi devo dire che è un po' la situazione tanto diversa rispetto a quello che è l'Italia. Perché comunque qui il regolamento dice che si va senza mascherine da più di un mese, che già da due o tre settimane, dall'otto di giugno per l'esattezza, in primi si era previsto degli allenamenti singoli, ecco, erano evitati contrasti. E invece dall'otto giugno ecco c'è stato un miglioramento un pochino di tutta la situazione, anche in base un po' ai dati e sono tornati ecco i ragazzi a calcare campi di gioco, sono tornati le partitelle, sono tornati le situazioni. Questo ecco ci ha un po' agevolato nel senso che siamo potuti ripartire noi con l'attività e lo faremo fino a metà luglio. E' normale ecco che vi segnalo anche un atteggiamento giusto da parte proprio anche di responsabilità da parte sia dei bambini, perché comunque sono ripartite le scuole, sono ripartiti gli asili e sia delle persone. Ecco tutti ci si attiene alle regole in maniera scrupolosa e appunto è stato bello anche sotto certi aspetti capire di potersi fidare diciamo di dei bambini fin da piccoli, del loro comportamento, del loro atteggiamenti per non rischiare nulla. E devo dire che proprio per mentalità e per organizzazione mi hanno sorpreso davvero tanto in senso positivo. Ecco quindi qui la gente si attiene davvero rigorosamente alle regole e probabilmente prima di quello che prevedevo sono arrivati diciamo a una libertà e a una tranquillità diversa, anche se poi c'è sempre come giusto uno stato d'allerta. So che in Italia perché comunque seguo tanto e seguo tanti colleghi ma anche qui le vicinanze appunto di Como e la situazione chiaramente è un attimino più di prudenza. So che anche lì si stanno facendo comunque dei passi e che sono ripartite certe attività soprattutto per i bambini che sono quelli che diciamo sotto certi aspetti hanno un po' patito tanto questa situazione rimanendo a casa. Sì dicevo è tornato Marian Saldi con noi volevo fargli rompere il ghiaccio Laura anche a Mario facendo entrare nel vivo di questa trasmissione ti sei perso un piccolo pezzetto dell'intervento di Simone in cui parlava anche delle differenze tra l'approccio mentale con cui è stata affrontata questa situazione non semplice in Svizzera rispetto a quella italiana. Tra l'altro mentre stavo ascoltando Simone ho avuto un flash sicuramente Mario e Simone vi siete incrociati nel settore giovanile dell'Empoli per un periodo perché Mario ha allenato se non ricordo male la primavera la Beretti dell'Empoli qualche stagione fa. Sì ho fatto tre anni di primavera con Luca Cecconi e poi il quarto anno ho allenato la Beretti e Simone era uno degli allenatori della scuola calcio settore giovanile è fatto anche giovanissimi non so poi se non mi sbaglio. Sì 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 però era un responsabile tecnico molto valido e è sempre stato considerato una persona un allenatore molto preparato e mi fa piacere mi dispiace che tu abbia lasciato l'Empoli perché l'Empoli è una gran bella realtà però hai accettato una bella sfida e ti faccio tutti i più grossi complimenti e il più grosso un bocca al lupo per la tua avventura dal suo a Chiasso in Svizzera che penso che sia molto stimolante per te. Ecco premetto che non era non era preparata assolutamente questa situazione come si vede insomma il calcio regala anche questi intrecci no queste storie di incroci di esperienze volevo un'opinione da Mario in merito a quello che aveva detto comunque Simone sul fatto di questo modo diverso di affrontare questa situazione difficile poi Laura penso aveva una domanda pronta di nuovo per Simone Mario. Ma penso prima di tutto che lassù in Svizzera il discorso del coronavirus il contagio del coronavirus sia stato molto più leggero rispetto che da noi anche se a pochi chilometri di distanza come la Lombardia e la Svizzera lì dove è Simone da noi sono stati situazioni disastrose dove abbiamo tutti quanti nella mente e in memoria le centinaia di centinaia di bare caricate sui camion dell'esercito per essere portati via senza che i familiari potessero fare il funerale a proprio cari e tutto quanto quindi probabilmente la situazione un po' più alleggerita del contagio del virus lì in Svizzera gli ha permesso di potersi districare meglio in determinate situazioni cioè nel senso della libertà di movimento senza ultimamente come diceva Simone l'uso delle mascherine di ripartire con gli allenamenti dei ragazzi, dei bambini e del settore giovanile molto prima che da noi poi da noi da una parte sembra che sia tutto quanto terrorismo per impaurire le persone per non responsabilizzare le persone però insomma bisognerebbe avere un pochino più di prudenza anche noi nel non cercare il discorso ora fai il discorso della movida o cose del genere però l'assemblamenti tutti attaccati in quella maniera è sempre abbastanza rischioso probabilmente in Svizzera io penso Mario sia proprio un discorso di cultura come diceva Simone comunque c'è una cultura diversa in Svizzera c'è sicuramente una tipologia di cultura diversa perché te guarda per dirti le strade le cose non vedi una cicca o una cincomba tirata in terra nel senso da noi ci sono le bottigliette o fazzoletti o le mascherine che viaggiano o i guanti quelli monousi che sono a destra e a sinistra e fanno fatica a raccattarli o cose del genere cioè proprio c'è sempre stata una cultura diversa in Svizzera che da noi da giù sono rispettosi dell'ambiente cosa che qui da noi in Italia purtroppo tantissime persone non lo sono diciamo Mario che sono rispettosi delle regole in generale quindi sarà molto difficile entrare nell'ottica di un rispetto prolungato delle regole anche in Italia ma volevo chiedere a Simone una questione sempre relativa comunque al settore giovanile stiamo comunque affrontando una piccola ripresa in Italia perché come ben sappiamo alcuni camp estivi sono ripartiti in numerose città italiane, in numerose società sportive però ci sono dei punti interrogativi per la ripresa degli allenamenti a settembre ti volevo chiedere quanto potrebbe incidere Simone uno stop del settore giovanile proprio nella formazione dei ragazzi? Guarda io ti dico il mio punto di vista è quello che anche qui quando avevano dato una forma di ripartenza individuale quindi con allenamenti individuali senza le situazioni fin da subito ho detto guarda proviamoci perché comunque è comunque un modo per far ripartire ragazzi per farli allenare e per toglierli diciamo da una situazione di sedentarietà allo stesso tempo ti dico secondo me è meno calcio purtroppo di quello che ti consente una situazione di gioco o un contatto è normale che in una situazione di emergenza benvenga anche questo tipo di allenamento individuale ma in una situazione calcistica formativa ritengo appunto che la situazione di gioco le partitelle siano il massimo del piacere e il meglio dell'insegnamento per un ragazzo quindi è dura ma allo stesso tempo mi sento di dirvi è giusto accontentarsi da tenersi alle regole perché comunque non passi il messaggio che vada sdrammatizzata assolutamente la situazione ecco vi dico sicuramente nell'esperienza mia vi metto o vi riporto anche quello che dicevate prima perché comunque è una cultura che passa proprio da persona a persona sicuramente hanno un territorio che li favorisce perché ci sono tanti piccoli paesi qui però è vero anche che come diceva Mario che ringrazio anche per i complimenti che mi ha fatto prima alla fine qui proprio la cultura si trasmette l'un l'altro perché veramente c'è una pulizia c'è un'attenzione maniale proprio su tutti i comportamenti della vita quotidiana ecco e raramente ecco ti capita non solo i comportamenti penso ma anche proprio a livello di struttura perché le grosse problematiche che sono subentrate negli ultimi periodi sono tentare di ristrutturare no anche gli ambienti e centri sportivi in base comunque alle normative sì quello guarda è purtroppo un qualcosa che rappresenta un limite grande della formazione calcistica di tante realtà in Italia ora tante situazioni stanno migliorando stanno investendo tanto di più le società in dei centri sportivi qui vi posso dire che l'attenzione proprio sui campi di gioco è davvero è davvero molto alta perché perché proprio tutte superfici in erba tanta cura da parte proprio dei comuni perché i centri sportivi qui non sono privati ma sono a gestione comunale però ecco davvero è un loro vanto e più vi dico si sale verso la Svizzera interna e più la situazione va migliorando però vi posso riportare delle emozioni che ho provato anche andando con dei ragazzi nell'andare a giocare in dei campi che pareva davvero di essere in delle partite di livello internazionale tanto era bella proprio l'atmosfera intorno e la qualità davvero del terreno quindi ecco qui hanno ti rendi conto che hanno davvero tutto per fare per fare calcio bene in Italia mi auguro che vada migliorando perché poi la qualità Mario non è d'accordo no no non è che sono che non sono d'accordo è che in Italia i comuni non non spendono nei nei campi comunali se Simone si ricorda quando era uno dei responsabili della scuola calcio dell'Empoli che si allenava mi ricordo a Petroio no anche sì sì o a insomma sì a Pozzale a Pozzale insomma io non penso che lì in Svizzera i campi siano uguali a quelli di Petroio o di Pozzale no? perlomeno quelli comunali non penso proprio no 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 assolutamente c'è proprio diversità di mentalità nella struttura e nel tenere sane le le proprie strutture scolastiche comunali di sport di centri sportivi e tutto quanto cosa che qui in Italia non c'è i comuni non ce l'hanno e c'è poco da fare ecco tra l'altro avete lamentato due frazioni che giusto giusto dirno Mario fanno sono uno in un comune una in un'altra quindi è un problema che riguarda un po' in generale un po' tutta la tutta la situazione perché sono due comuni diversi Laura nella nostra marcia di avvicinamento a spiegare a raccontare anche quello che è successo nella giornata della ripresa del campionato di Serie B in cui coinvolgeremo sia Mario che Simone faccio una domanda a Simone proprio in questo chiedendogli siccome il chiasso milita nel campionato di Serie B Svizzero che aiutami in questo momento mi sfugge la denominazione Major League giusto? no Challenge League Challenge League che sarebbe la Serie B Svizzera tu segui comunque in un modo o in un altro anche il campionato di Serie B italiano quindi ti chiedo a che differenza c'è? quanta differenza c'è fra il campionato di Serie B Svizzero e il campionato di Serie B italiano? negli ultimi anni tra l'altro bisogna dire che tra il campionato svizzero e il campionato italiano ci sono stati molti passaggi di calciatori che appunto sono approdati nella Serie A ma addirittura nella Serie B italiana allora senti la differenza Gabriele per me è tanta nel senso che proprio sono due realtà anche totalmente diverse pensa che nella Challenge retrocede una sola squadra ok? e questo facilita tantissimo secondo me nonostante rimanga un campionato affascinante e per tanti versi anche per certi versi anche competitivo però veramente facilita tantissimo la crescita dei giovani perché poi ecco c'è meno diciamo attaccamento al risultato soprattutto diciamo che più alla crescita stringola esatto esatto quindi è un calcio diverso è un calcio probabilmente meno tattico ma tecnico e anche per certi aspetti per certi aspetti fisico io credo che e lo sto toccando anche un pochino nel settore giovanile cioè qui c'è una una tranquillità anche proprio gestionale o anche proprio di crescita dei ragazzi ecco ma di come vive il calcio di come vive l'ambiente che vi dico per me è comunque un bel segreto per far crescere tanti ragazzi sono andato anche a vedere qualche mio ex giocatore che è venuto con le nazionali dell'Empoli cioè è mio ex giocatore dell'Empoli è venuto con le nazionali a giocare con la Svizzera vi dico che insomma ci sono dei ragazzi in Svizzera nella nazionale di Svizzera di buonissima qualità ecco quindi probabilmente la prima differenza e la più grande differenza è questo avere dei grossi interessi che ci sono in Italia è quello seguire in maniera molto molto attenta il risultato e da lì e da lì Simone ma anche Mario si capisce anche la crescita esponenziale che è riuscita a fare il campionato Svizzero io mentre parlavi mi è venuta a mente ero piccolo ma già seguivo il calcio in maniera molto appassionata nei fini anni Ottanta la nazionale italiana allora allenata da Zeglio Vicini con Mancini, Vialli tanto per fare dei nomi Giannini al centrocampo vinse contro la Svizzera per 6-0 il primo tempo era già sul 4-0 il secondo tempo era pressoché un allenamento era la nazionale che si stava avvicinando a disputare i mondiali del 90 negli ultimi anni mi sembra una signora squadra però negli ultimi anni credo che non sia ossia un po' forse peggiorato anche il livello del calcio italiano però credo che si sia avvicinato di più il livello del calcio svizzero sì guarda io sono sempre stato molto affascinato perché comunque da quando sono a Empoli ho sempre avuto anno per anno la voglia di formarmi e migliorarmi facendo anche studi o varie esperienze e ho sempre visto con un certo fascino soprattutto negli ultimi anni la cultura europea ecco io vi dico che qui soprattutto dalla Svizzera interna partono delle direttive che sono un insieme diciamo della cultura tedesca e della cultura francese ecco quindi sono molto influenzate ecco da quella cultura è normale che quella italiana no? quella italiana secondo me è sempre stata cioè c'è sempre stima e rispetto ecco del calcio italiano però ti posso dire soprattutto un ambito giovanile nell'ultimo anno ci stanno guardando un po' dall'alto al basso e questa cosa un po' chiaramente dispiace però credo anche che sia il momento anche per noi in Italia di capire che ad ora la storia parla sicuramente a nostro favore che siamo una nazione che farà sempre calcio perché ci sono dei maestri importanti e perché un certo tipo di calcio si è toccato e te lo dimostrano anche i tanti i tanti allenatori che vanno in Europa e comunque vincono è normale che che probabilmente e questo spezzo un pochino una lancia per quello che è stato il mio mondo vissuto negli ultimi 20 anni a livello di settore giovanile sicuramente qualcosa si deve cambiare e si deve andare a migliorare ecco quindi secondo me gli altri ci hanno sempre molto rispettato noi a un certo punto ci siamo anche un pochino guardati troppo allo specchio probabilmente piaciuti troppo ad oggi ecco è tempo di rimboccarsi le maniche e di prendere atto che la realtà in Europa parla comunque chiaro che negli ultimi anni anche a livello giovanile nelle nazionali sicuramente c'è bisogno di ripristinare qualcosa e sono convinto anche voglio guardare positivamente al calcio italiano perché ci credo alla fine che una volta che si capisce cosa manca e credo che già dei passi in avanti negli ultimi due anni si stiamo facendo l'Italia possa ritornare in maniera prepotente ad essere un livello di calcio a rappresentare un livello di calcio a livello importante ma sempre rappresentato Laura io ho preso nota perché qua ci sono ci sono due tre virgolettati importanti di Simone che potrebbero fare il giro del web Simone mi ha dato un assist importante abbiamo parlato comunque di Giovanilli ma vorrei sottolineare e porre l'attenzione a una campagna di sensibilizzazione un'iniziativa molto importante della Lega Serie B che ha lanciato l'hashtag Be Start Together perché comunque come sappiamo la ripartenza del calcio quindi il ritorno sul campo è un segno di speranza non solo per i giovani ma anche per le persone diversamente abili che vogliono tornare ad allenarsi e a giocare in sicurezza quindi penso sia una cosa molto importante da parte della Lega Serie B questa iniziativa perché comunque si sta strumentalizzando insieme comunque al Ministro del Ministero dello Sport per far ripartire tutte le persone amanti dello sport anche le persone più deboli quindi io penso sia molto importante Mario giusto? Decisamente no decisamente anche perché come diceva Simone ben o male in Svizzera hanno già ricominciato ad allenarsi prima singolarmente poi già come squadra stanno già facendo partitine di contatto e tutto quanto noi qui a livello settore giovanile sia dilettantistico che professionistico non abbiamo ancora una data di quando ripartiranno la stagione i campionati e tutto quanto nel senso quindi siamo siamo indietro rispetto a loro sotto questo punto di vista qua anche se le società so che si stanno muovendo per cercare di rinforzare i propri i propri vivai andando a prendere giocatori fuori regione in regione e tutto quanto però torno al discorso che faceva Simone prima sul discorso dell'organizzazione societaria dei club e delle nazioni l'esempio è la Germania la Germania ha avuto un periodo di crisi abbastanza profonda a livello di club non tanto di nazionale però a livelli di club sì e è partita un'iniziativa da parte proprio della federazione tedesca dove hanno imposto di rivoluzionare tutti i loro centri sportivi organizzarli al meglio e fare delle come si chiama delle preparazioni e uno sviluppo di lavoro tale da poter far migliorare tutto quanto il settore giovanile perché poi le nazionali forti li fai creando i tuoi settori giovanili forti perché se non hai il tuo settore giovanile forte poi in nazionale non puoi prendere i giocatori delle altre nazioni per fare la tua nazionale devi avere i giocatori tuoi nel senso quindi devi strutturare bene i centri federali programmare bene il lavoro e tutto quanto nell'arco del tempo è tornata la Germania che è tornata ecco in attesa che si sappiano notizie importanti sull'eventuale ripartenza dei settori giovanili una notizia è arrivata nei giorni scorsi ovvero lo stop definitivo sul campionato primavera sui tornei di serie A e serie B primavera per cui praticamente le classifiche sono state congelate sono state stabilite retrocessioni perché sappiamo che da due anni a questa parte ci sono retrocessioni e promozioni anche per quanto concerne il campionato primavera il campionato che alla stregua della serie A è ripartito invece è il campionato di serie B che ha regalato emozioni ha regalato qualche conferma come ad esempio il successo della capolista ma ha regalato anche qualche sorpresa e con Laura Maccioni andiamo a leggere i risultati della ventinovesima giornata andiamo a leggere i risultati Gabriele finalmente tornano i risultati con la regia di Damiano Baccetti il nostro la ripartita del campionato di serie B inizia da venerdì 19 giugno con Spence e Empoli per 1 a 0 sabato 20 giugno Cosenza Virtus Centella 2 a 1 Crotone Chievo 1 a 1 Livorno Cittadella 0 a 2 3 a 1 Salerni 1 a 1 Trapani Frosinone e Fordinone Venezia 0 a 0 domenica 21 giugno invece Cremonese Benevento 0 a 1 Ascoli Perugia 0 a 1 quindi questi sono i risultati della ventinovesima giornata di serie B Mario qual è stata la partita che ti ha sorpreso di più Qual è stata la partita che mi ha sorpreso di più sinceramente non te lo so dire nel senso mi sembra che il campionato a parte il Benevento sia un campionato talmente talmente equilibrato all'infuori che del Livorno e un pochino del Trapani giù in fondo in fondo alla classifica dove sinceramente ci sono ancora tanti punti da poter ribaltare un po' tutte le quante le situazioni sinceramente mi è dispiaciuto della sconfitta dell'Empoli che fortunatamente ma non fortunatamente perché ha perso perché da quando è stato cambiato l'allenatore con Gabriele se ne parlava glielo dicevo che ci sarebbe voluto un allenatore molto molto più esperto nel senso per la per la città di Empoli Marino è un allenatore l'Empoli l'Empoli Mario ha perso 1-0 ma ha perso contro una squadra allo Spezia che non era stato considerato da molti alla vigilia di questo campionato come una presunta protagonista però in realtà bisogna alloggiare una buonissima squadra l'allenatore la fa giocare bene è organizzata è equilibrata non fa un calcio esaltante però è molto concreto nel senso successo successo dello Spezia che è arrivato tra l'altro con cinque assenze pesanti tra i rigoli decisamente segnaliamo Vidaoui Ferrer che è stato di fatto uno dei protagonisti nella difesa di italiano e soprattutto i due gemelli Ricci che hanno sensibilmente innalzato il livello tecnico dello Spezia e ti stavo dicendo secondo me è stata è stata una battuta d'arresto però l'Empoli avrà tutto il tempo perché poi ha perso contro una squadra che bene o male nelle ultime 12 o 13 partite in casa ha fatto nove vittorie e due pareggi nel senso per cui squadra in casa di grande valore di grandi risultati e che sta facendo del suo campo principale un punto di forza che la sta portando nelle zone alte della classifica Ecco alle spalle del Benevento che naturalmente continua il suo rullino di marcia sottolineiamo il successo esterno del Cittadella poi intanto Damiano fa vedere la classifica che leggerà a breve Laura c'è da dire che il Cittadella ha vinto sul campo del Livorno mentre attenzione a quello che accade anche in coda perché la vittoria della Cosenza è passata in secondo piano però in realtà i calabresi hanno costruito un successo importante soprattutto hanno costruito davvero tantissime occasioni da gol Simone Ah guarda credo che come negli ultimi anni il campionato di Serie B alla fine ci riserva sempre una classifica molto corta e ovviamente da tifoso mi auguro che l'Empoli in questo rush finale con quelle partite che restano trovi davvero la quadra per far bene una continuità di risultati di sicuro ecco come negli ultimi anni anche sotto c'è voglia di tenersi attaccati alla categoria e soprattutto ora in questo periodo dopo un fermo bello lungo come quello che c'è stato i risultati si sa possono essere sorprendenti ecco fra questo come dicevi te il Cosenza sicuramente a ora riaccorcia un pochino la classifica e tiene in guardia un po' tutte quell'altre Laura prima di passare alla classifica io vorrei sottolineare l'importanza delle persone che ci ascoltano e quindi visto che abbiamo visto alcuni messaggi vorrei comunque dare valore al messaggio di Carmine Esposito che è stato in trasmissione ospite da noi che salutiamo che ci dà un grandissimo abbraccio e ci saluta ma soprattutto un saluto per gli ospiti in particolare al mio grande amico Simone che lo saluto con grande stima uno dei pochi allenatori del settore giovanile veramente preparati che non è secondo a nessuno vi seguo con grande affetto stima e ammirazione quindi grazie Carmine ti salutiamo penso che comunque Simone sia con me permettimi guarda di intervenire perché è un po' anche che non lo sento il grande Carmine che è la storia dell'Empoli che ci ha fatto sognare in tanti momenti ho avuto il piacere di condividere annate di calcio proprio di insegnamento con lui e ci siamo divertiti tantissimo e ho imparato davvero tanto e in più abbiamo condiviso anche dei momenti di calcetto insieme dove li diventava devastante perché comunque sempre stato in forma sempre stato un grande professionista ecco lo saluto e lo ringrazio è un piacere tra l'altro tra l'altro una chicca una chicca storica che lega Carmine Esposito che è stato il nostro ospite qua nella precedente puntata si ricorreva proprio in questi giorni una sorta di anniversario per due gol decisivi di Carmine che ha regalato a due società la Serie B una società Lavellino nel 1995 e l'altra L'Empoli nel 1996 con Lavellino nel giugno del 1995 un suo gol fu decisivo contro il Gualdo nel 1996 un suo gol fu decisivo contro il Como per l'Empoli per tornare nella serie cadetta Laura leggiamo allora insieme grazie comunque alla regia di Damiano Baccetti la classifica della Serie B attuale che vede comunque un benevento ormai praticamente in Serie A con 72 punti a seguire Crotone a 50 Frosinone 48 Spezia 47 a 46 Pordinone Cittadella a seguire Saleritana a 43 punti Chievo 42 Empoli nono posto a 40 punti Perugia a 39 Virtus 25 e in chiusura il Livorno a 18 punti vogliamo commentare Gabriele questa classifica in questo momento che comunque chiedo a Mario Benevento in Serie A e Livorno praticamente ci duole dirlo e ci dispiace per chi ci segue per gli appassionati del Livorno probabilmente già con un piede e mezzo in terza divisione nazionale tutto il resto io ci metto dentro anche il Trapani perché comunque Trapani ha conquistato le parole di bocca ha conquistato un punto importante in casa contro il Frosinone terza forza attuale terza forza del campionato Sì il Frosinone è la terza forza del campionato ha una persona molto molto preparata è stato un grandissimo giocatore quindi saprà dare sempre gli stimoli giusti l'organizzazione e la voglia di di tornare a certi livelli dove la città Frosinone e la società Frosinone hanno giocato per alcuni anni nel senso il Trapani sinceramente lo vedo non proprio spacciato ma come il Livorno con un piede e mezzo in serie in serie B scusa in serie C abbi pazienza in Lega Pro il Cosenza con questa vittoria che ha avuto che ha fatto nell'ultima nell'ultima domenica cioè nell'ultima partita si sta tirando un pochino su e sta accorciando la classifica una squadra che sinceramente mi ha deluso che l'avevo vista decisamente meglio è proprio Lascoli che è la squadra più vicino Lascoli tra l'altro Mario mi ha dato un assist perfetto mi scuso perché mi stavo dimenticando una notizia importante che riguarda la Serie B ieri ha esonerato Abascal e di fatto il picchio bianconero si accinge a prendere il quarto allenatore della stagione io sinceramente lo vidi a Empoli che fece una buonissima prestazione e sinceramente non la facevo una squadra da bassissima classifica come in questo momento anzi pensavo che potesse tranquillamente entrare a far parte delle squadre che potevano giocarsi playoff a fine stagione poi dopo purtroppo di partita in partita le cose sono andate un po' a precipitare in questo momento se stanno cambiando il quarto allenatore hanno mandato via il terzo allenatore ne stanno tendendo un altro vuol dire che ci sono non ti dico problemi societari però sicuramente qualcosa manca e spero che per loro riescano a trovare la quadra giusta per venire fuori da questa situazione che in questo momento con la vittoria del Cosenza si sta si sta facendo pericolosa anche per loro nel senso volevo coinvolgere un attimo Simone perché stiamo parlando poco secondo me del Chievo di Aglietti perché il Chievo ha ottenuto un risultato molto importante molto pesante sul campo del Cortone è andato sotto con un gol di Molina tra l'altro il primo della stagione al ventunesimo del primo tempo i pitagorici hanno provato a chiudere la partita il Chievo invece con l'ughe e con i denti ha resistito è rimasto in partita e poi ha ottenuto il gol del pareggio e questo è secondo me chiedo a Simone ma anche poi a Mario che può intervenire un risultato chiave del campionato perché di fatto se il Crotone avesse vinto avrebbe davvero allungato poteva mettere una zampata quasi decisiva al secondo posto invece con questo pareggio subito nei minuti finali può subire scusate il gioco di parole un contracolpo psicologico al cospetto di una squadra che rappresenta l'ultimo posto per l'accesso ai playoff Simone e poi Mario sì guarda io credo che chi ha centrato un pieno nel senso che poi alla fine poteva essere un'occasione buona per il Crotone non ti dico per prendere il largo però ecco per rappresentare in maniera concreta il ruolo di seconda forza anche se poi alla fine credo che basta vedere un pochino i nomi delle società che sono lì nel giro playoff o nel giro secondo posto ci sono delle società nuove ma ci sono delle società anche che sono un po' abituate ecco a quelle posizioni di classifica e anche a delle esperienze in Serie A quindi credo che ci sia una bella cioè ci sia la fame e la voglia da parte di tante di arrivare ad emergere perché oggi penso che la Serie A sia un interesse per tanti club e quindi che probabilmente ad oggi la spunterà la società che ci crederà di più che avrà più episodi a favore ma che anche in base a quello che si diceva prima riuscirà prima di tutto ecco a prendere una condizione atletica e anche psicofisica ti direi per arrivare al rush finale pronta io guarda io sì Laura no io in realtà ora Mario se volevi aggiungere qualcosa no no parla pure poi dico no prima di passare al prossimo turno io volevo focalizzarmi su un'espressione che ha utilizzato Simone precedentemente è un calcio diverso io volevo chiedervi a voi perché è stata utilizzata molto spesso sia nei commenti della Serie A sia nei commenti del campionato che ha detto quanto è diverso questo calcio Mario rispetto al calcio giocato prima del lockdown allora la sosta lunga in questa maniera sicuramente ha influito sulla condizione atletica delle squadre infatti volevo proprio parlare di questa situazione qui il discorso della mancanza del pubblico è una cosa fondamentale perché le partite sembrano non ti dico giocate al rallentatore ma quasi non è che poi sia tutta colpa della cosa della preparazione delle squadre e tutto quanto però la preparazione delle squadre in questo momento visto che si sta giocando ogni tre giorni e con i giorni che passano si va sempre più verso stagione calda ok la condizione sarà estremamente importante se le società che sono attrezzate avendo fatto buone squadre e tutto quanto avranno fatto una preparazione secondo me non pesante perché non pesante perché in 40 giorni non puoi fare una preparazione come la fai prestagionale che devi andare avanti 4-5 mesi per poi rifare il richiamo invernale a dicembre o gennaio quando c'è la sosta e tutto quanto la preparazione in questo momento qui per chi l'avrà azzeccata e starà bene fisicamente avrà meno problemi fisici muscolari di infortuni e tutto quanto sarà estremamente fondamentale io spero che le società logicamente hanno fior di professionisti e tutto quanto a disposizione penso che abbiano gran parte delle società abbiano fatto una prepreparazione tipo una specie di richiamo invernale o cose del genere perché se te in questo momento carichi troppo sono state numerose difficoltà Mario proprio a livello di gioco in che senso scusami per esempio comunque abbiamo commentato spesso anche nelle passate trasmissioni tra l'altro con Carlo Nicolini che saluto che ci ha scritto e ci saluto a tutti che comunque diciamo le maggiori probabilità di risaltare comunque in un campionato andranno comunque alle società con una rosa più ampia in realtà per esempio abbiamo visto anche in Serie A non è stato così anche in Serie B comunque no per dirti la Juventus contro Napoli ha fatto estrema fatica perché anche Napoli bene o male ha pensato a difendersi in 15 metri dall'area di rigore quando trovi una squadra che con il portiere e 10 effettivi che ti giocano a 10 metri dall'area di rigore trovare spazi diventa diventa complicato quindi può darsi che la fatica che hanno fatto con Napoli sia stata dovuta anche alla mancanza di spazio che Napoli gli ha fatto gli ha fatto avere alla Juventus poi probabilmente un po' più liberi un po' più determinati l'altro giorno contro Bologna che però gli ha dato un po' più di spazio allora abbiamo visto poi la qualità dei giocatori che ha la Juventus e tutto quanto però la preparazione ti torno a dire secondo me è stata fatta non pesante ma leggera perché in 40 giorni che ti giochi tutte le partite non puoi aver caricato più di tanto e a proposito di questo la struttura fisica Mario penso sia determinante la struttura fisica in questo momento del singolo giocatore abbiamo visto comunque un grande Mertens per esempio un grande Insigne a discapito magari di un Ronaldo che comunque ha una struttura fisica imponente e dà un recupero molto più lento la struttura fisica è fondamentale specialmente poi andando verso il periodo estivo quelli grossi strutturalmente alti 1,90m 1,87m 1,92m come possono essere i difensori centrocampisti o cose del genere sicuramente ci mettono più tempo a entrare in forma rispetto a brevi linei tipo Mertens tipo Insigne tipo altri giocatori della loro struttura e tutto quanto quindi i brevi linei sicuramente hanno fanno meno fatica a entrare a entrare in forma non è un caso non è un caso infatti te lo stavo dicendo non è un caso che quando l'Empoli quando lo Spezia ha fatto la sostituzione mettendo un brevi lineo come se non mi sbaglio era Ragusa infatti stavo facendo due accostamenti quello dello Spezia che ha messo in campo un motorino del centro campo a Campora e Ragusa davanti è cambiato di fatto la velocità di esecuzione di manovra dello Spezia ma la stessa situazione si può dire anche per il Pescara che ha vinto una partita sfruttando gli uomini brevi linei tra questi tra l'altro sottolineiamo se li fai entrare che manca 20-25 minuti 30 minuti alla fine che ti danno tutto quanto in quel breve periodo di tempo è gente che ti può spaccare le partite in due se hanno anche qualità nel senso quindi se ti saltano l'avversario ti smantellano tutta l'organizzazione difensiva che puoi aver creato fai fatica a riprendere le posizioni e tutto quanto siccome siamo già nei minuti di recupero della nostra quinta puntata perché come sappiamo insomma sono 45 minuti poi non sono mai 45 minuti sforiamo sempre di qualche minuto tu hai toccato Mario primo un argomento molto interessante quello delle rose della preparazione breve per correre 40 minuti e in questo credo che la prossima settimana sia molto determinante per il campionato di Serie B perché si gioca un turno venerdì poi si scenderà in campo lunedì e di nuovo il venerdì successivo quindi di fatto tre partite nel giro di otto nove giorni al massimo con la regia di Damiano Baccetti Laura Maccioni il compito di reggere il prossimo turno e poi appunto andremo ad analizzare perlomeno quello che sarà il prossimo turno un prossimo turno interessantissimo Gabriele che si svolgerà in un'unica giornata di venerdì 26 giugno con Trapani Pordenone alle 18.45 alle 21 Chievo Spezia Cremolese Cosenza Empoli Benevento Frosinone Cittadella Juve Stabia Livorno Perugia Crotone Pisa Pescara Venezia Ascoli e Vettus Centella Saleritana quindi direi partite molto interessanti Mario la stavo la stavo guardando la stavo guardando anch'io allora per l'Empoli sicuramente ha la peggior squadra da poter affrontare di questo in questo momento benevento benevento a tre punti dalla matematica promozione in Serie A esatto benevento anche se non dovesse far risultato e dovesse perdere a Empoli non ce n'ha uno c'ha tutto il corpo in Serie A nel senso non è quello non è quello il problema ti stavo dicendo benevento ricordiamo ha perso una sola partita a novembre scorso 4 a 0 in casa del Pescara potrebbe essere un'arma a doppio taglio il discorso della partita Empoli-Benevento perché giocata nella maniera giusta farebbe un grande risultato bisogna vedere poi il Benevento come viene a Empoli per dire vogliamo festeggiare a Empoli oppure vogliamo festeggiare che ne so la prossima settimana giocando in casa chiedo a Damiano chiedo a Damiano in regia se può zoomare se è possibile chiaramente zoomare un attimino esatto io vorrei porre l'attenzione Gabriele anche su Frosinone Cittadella guarda ci stava arrivando anch'io erano le due partite che volevo dire che secondo me erano direi uno sconto determinante per la classifica le due partite di cartello ora per l'Empoli parlando di Empoli perché siamo tutti quanti affezionati e ti fiamo Empoli e ce l'abbiamo nel cuore e tutto quanto sono partito da lì però la partita più importante secondo me di questa partita è proprio Frosinone Cittadella sono a due punti di distanza una dall'altra quindi secondo me sarà la partita clou dell'attuale giornata di gioco a 48 punti Cittadella a 46 a te Simone come vedi Chievo Spezia e in coda Cremonese Cosenza ma infatti ti dico immaginavo in base anche alla considerazione che si faceva prima di mister Aglietti del Chievo e anche di quello che di buono sta facendo lo Spezia che la stessa importanza secondo me c'era proprio questa partita perché secondo me chi delle due la spunta può sicuramente trarne un vantaggio un vantaggio particolare in coda sicuramente ecco la Cremonese e Cosenza è anche quella un'altra partita che può dire tanto perché se Cosenza riuscisse a dare un po' di continuità a quel risultato lì allora veramente direbbe davvero tanto nella lotta salvezza coinvolgendo altresì la Cremonese in primis ed altre squadre poi c'è un'altra partita molto interessante che Damiano fa vedere adesso Perugia Crotone ricordo all'andata finì 3 a 2 fu una partita spettacolare con molti gol in coda però attenzione perché c'è anche Venezia Ascoli altra gara davvero molto molto interessante dal punto di vista della classifica Mario sì decisamente fra l'altro a Venezia c'è un mio carissimo amico che è il direttore sportivo Fabio Lupo con cui ha avuto il piacere anche se per tre settimane di collaborare giù a Castellammare di Stabbia quando c'era Piero Braglia che gli andai a dare una mano giù a Castellammare di Stabbia nel 2014 bravissimo bravissimo quindi spero per lui che possa che possa uscire nel più breve tempo possibile da queste da questa situazione di classifica che è decisamente penalizzante anche perché è vero che a qualche punto di vantaggio sulla diretta zona retrocessione però è sempre nella zona nella zona play out quindi beh non male se dovesse rimanere così la classifica i play out se li deve giocare lo stesso nel senso per cui spero sinceramente che che possa uscire con tutta la società e la squadra da questa situazione di classifica che sta vivendo in questo momento Laura non so se avevi una domanda ti ho visto un attimo presa oppure se vogliamo guarda Gabriele siamo arrivati in chiusura della nostra trasmissione però io vorrei chiedere a Mario e Simone un pronostico su il campionato cadetto Mario ma te l'ho detto ci sono talmente tante variabili a parte il fatto che ci sono ancora tanti punti da giocare tante partite da giocare e tanti punti in palio e poi ti ripeto ci sono società ben attrezzate e ti ripeto il discorso dei cinque cambi è molto importante perché il discorso dei cinque cambi è molto importante per cercare di far rifiatare i vari giocatori che verranno più o meno utilizzati durante l'arco delle partite rimanenti e quindi ci sarà la possibilità non solo di dare respiro durante l'arco dei 90-100 minuti quanto può durare una partita ma poi di far ruotare la rosa in più casi e più velocemente non velocemente più volte durante l'arco delle partite che rimangono e poi ti ripeto torno su ma no io non sono un preparatore atletico però in questo momento la preparazione atletica sarà fondamentale sarà fondamentale Simone brevemente secondo te un pronostico su questo campionato cadetto? guarda io più che un pronostico ti faccio cioè devo parlare un po' da tifoso un po' col cuore e dico che mi auguro solo di vedere coinvolto l'Empoli in maniera concreta per la lotta sua ecco poi come credo che poi sicuramente che è un aspetto anche quello fondamentale a livello mentale sarà l'abitudine anche dei giocatori nel trovare degli stimoli importanti in una situazione che rischia di diventare fino alla fine comunque surreale perché senza tifosi è davvero tutto diverso quindi ecco la squadra che si abituerà prima e che avrà nella testa bene l'obiettivo probabilmente la spunterà in maniera anche se chi mi conosce bene Simone sa che io sostengo da molto tempo che questa stagione non finirà senza tifosi ma finirà per una piccola parte di stagione con i tifosi sugli spalti seppur con alcune limitazioni in fatto di capienza degli stadi Simone siamo arrivati in conclusione per cui io inizio da te con il salutarti e ti saluto in questo modo il Chiasso punta alla Serie A Svizzera? il Chiasso punta a fare una bella stagione per l'anno prossimo per lanciare i giovani e io mi auguro tanto anche qualcuno proveniente dal settore giovanile allora Simone naturalmente ti ringraziamo della tua partecipazione e naturalmente ti coinvolgeremo anche in futuro per commentare questo campionato di Serie B grazie Simone e buona serata bocca al lupo per tutto Simone buona serata grazie grazie tante a voi è stato un piacere e alla prossima davvero grazie ciao Simone ci sentiamo presto ti chiamo ciao mister ciao buon proseguimento ciao e naturalmente andiamo a salutare anche Mario Mario stesso discorso che ho fatto per Simone ti chiameremo presto per commentare gli sviluppi di questo campionato che ha detto e per capire anche se hai ragione in questo senso in merito al discorso della preparazione in questo finale di stagione complicato in pochissime è una è una compotente basilare perché poi le squadre non è che vanno solo e soltanto avanti con la preparazione no? nel senso c'è il discorso psicofisico mentale agonistico e tutto e tutto il resto è una serie di componenti che messe tutte insieme fanno fanno la differenza perché poi c'è l'organizzazione della squadra l'equilibrio della squadra la forza dei singoli attaccanti dei difensori di centrocampisti che ben o male in Serie B a parte il Benevento in questo momento è che che fa un campionato a sé gran parte delle società si sono abbastanza sono abbastanza equilibrate in questo ecco perché poi dopo insistevo sul discorso della preparazione perché il resto è tutto è tutto organizzato perché è tutto organizzato la preparazione in questo momento farà la differenza assolutamente grazie grazie Mario ah scusa Gabriele visto che c'è la poltrona da playstation io c'ho c'ho mio figlio qui accanto c'ho mio figlio qui accanto che sta giocando alla playstation che lui è tesserato per il parma a fifa a fifa sport playstation si naturalmente c'ha la stessa poltrona diversi colori ma ci hai dato un assist perfetto Mario per ringraziare e salutare David Fratelli che ci ha appunto salutato pochi minuti fa facendo la battuta al nostro Gabriele Guastella di avere una poltrona da playstation e ha ragione il nostro David mi dispiace Gabriele ma è così quindi ti dovrai attrezzare con una poltrona più professionale per la prossima puntata metterò il logo di David Vanum sulla poltrona da playstation grazie Mario di essere stato con noi grazie a voi grazie a voi dell'ospitalità è un piacere chiamami quando vuoi che non c'è assolutamente problema assolutamente tornerai alla prossima ciao Laura tante buone cose ciao Gabriele ciao Mario buonasera a te e Laura noi siamo arrivati in conclusione anche oggi i nostri 10 11 minuti in più li abbiamo fatti ma siamo convinti che da casa sono stati in buona compagnia sono stati felici i nostri minuti in più rispetto ai 45 noi ci vediamo insieme martedì prossimo sarà una puntata molto interessante vogliamo ricordarlo perché ci saranno due turni da commentare quello di venerdì 26 e di lunedì sera quindi sarà un calcio giocato a tutto tondo direi Gabriele esatto i prossimi appuntamenti invece su di Vanum TV sono per giovedì con zona di Vanum Davide Pratelli il presidente di Vanum TV Igor Barbazza poi la Ciardiello Stefano Discreti giovedì lunedì di nuovo per commentare la serie A sempre con zona di Vanum poi noi torniamo martedì prossimo con di Vanum TV e buonanotte a tutti buonanotte Laura a martedì a martedì a presto Grazie a tutti.